...continente europeo e riunendole si compone una grande M che è l'iniziale della Madonna O di Maria O di Maria Bene, noi abbiamo concluso il nostro tempo grazie a Claudia Coll grazie a Safina Leccesa che ci ha dato grazie a Diego Fusaro gentiliano questa sera ma è interessante sempre il suo punto di vista ci vediamo dopo la pubblicità grazie Claudia grazie grazie a tutti